Siamo qui con Rocco Prezioso, presidente della FUSA Latina, che quest'anno sarà impegnata in un campionato di C2, una squadra che sicuramente è stata costruita per puntare in alto. Sì, è una buona squadra, la squadra è stata costruita per fare un buon campionato, poi strada facendo vedremo se saremo in grado di vincere il campionato o di fare un campionato tranquillo. La stagione è iniziata nei migliori dei modi, già la vittoria in Coppa Lazio che può sicuramente dare fiducia per il campionato che inizierà praticamente domani. Sì, domani comincia il campionato, andiamo in quel di Ceriara, una squadra favorita per vincere il campionato. Noi abbiamo passato il turno contro il Ciampino, i ragazzi sono stati bravi, ottimi, compatti e penso che la strada è quella da seguire. Antonello Calvanelli, vicepresidente della Fuzza Latina, un campionato che sicuramente è difficile ma vi siete strutturati per poter puntare in alto? Noi speriamo di puntare in alto con questa squadra che abbiamo messo insieme, vediamo nel prossimo del campionato. Tanti giocatori che comunque hanno calcato terreni di gioco anche di categorie superiori, abbiamo visto comunque anche i giocatori che hanno fatto la Serie B o la Serie C, dunque possiamo dire che ci sono tutte le carte in regola per puntare comunque a fare un buon campionato? Sì, ci sono le carte in regola per puntare a un campionato in tranquillità, poi vediamo dicembre e gennaio come ha detto il presidente per vedere come si può andare. L'inizio è stato incoraggiante però? L'inizio è stato molto incoraggiante, siamo stati molto soddisfatti della vittoria in Coppa e punteremo anche alla Coppa, vediamo un po' come va tutto l'andamento della squadra. Michele Di Pastena, capitano della squadra di C2 e della Futsal, quest'anno c'è stato già un inizio incoraggiante, potete puntare in alto? A noi squadra piace pensare volta per volta, dobbiamo costruire un buon gruppo, la strada è quella giusta, abbiamo fatto bene in Coppa, pensiamo di continuare così, però per adesso pensiamo di allenarci e lavorare bene, poi i risultati verranno. Domani c'è l'esordio in campionato, quali sono le squadre che temete di più sulla carta? Ma non lo so, si sente parlare di più di qualche squadra, anche dello stesso Ceriara, noi pensiamo a noi, ad affrontare ogni partita con lo stesso spirito, anche se con gli avversari magari considerati più blasonati, pensiamo che dipende sostanzialmente da noi chi temere di più. Antonio Angeletti, mister della Fussa Latina, un campionato che inizierà domani, come giungono i ragazzi a questo importante impegno? Ma diciamo che abbiamo già superato il turno di Coppa, quindi tutto sommato abbiamo una discreta condizione, anche se molti non sono al meglio e già domani abbiamo un po' di indisponibili, però insomma non ci andiamo a giocare su tutti i campi, quindi com'è giusto che sia così. Avete avuto un inizio comunque promettente che lascia ben sperare per il futuro? Sì, diciamo che la Coppa ci ha dato un importante segnale, quindi anche non essendo al meglio e non avendo tutti a disposizione, mi ha dato un importante segnale di crescita del gruppo. Enrico Pasquale Coluzzi per Mondofutsal TV